Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo una gustosissima frittata con peperoni e erbette. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 3 peperoni rossi quadrati, da cui ho rimosso la parte superiore, le parti interne bianche, le ho tagliate a listarelle e ancora a metà. 6 uova, ci serviranno 50 g di formaggio grattugiato, parmigiano o grana, quello che preferite, 1 spicchio d'aglio, l'equivalente di 1 kg di erbette o pietole, come volete chiamarle voi l'estate, ripassate in padella senza condimenti, senza nulla, solo per asciugare l'acqua di cottura. E poi ci serviranno olio, sale e pepe. Spostiamoci ai fornelli e iniziamo subito a prepararla. In questa padella ho aggiunto 2 cucchiai abbondanti di olio d'oliva. Arrivata a temperatura, aggiungiamo l'aglio e lasciamo odorare qualche secondo. Mescolate spesso così che non bruci subito. Perfetto. Avendolo tagliato così piccolino, come vedete, si è dorato immediatamente. E ora aggiungiamo i peperoni. So che sembrano tanti, ma a passi rame dovranno cuocere per più da 20 minuti e che ridurranno veramente moltissime. Diviamoli leggermente, li lasciamo insaporire con l'aglio. Regoliamo di sale e pepe, di martane, di pepe. Mescoliamo. Abbassiamo leggermente il gas, dobbiamo farli cuocere a passire per circa 20 minuti. Coperti con un coperchio. Abbiamo cotto i peperoni per una ventina di minuti. A fuoco moderato, con il coperchio, mescolando spesso, li ho trasferiti in una ciotola di vetro e li ho lasciati intiepidire. Le nostre pietoline sono raffreddate e sono pronte per essere unite ai peperoni. Ho messo in questa ciotolina 6 uova, ho aggiunto sale, pepe, andiamo ad aggiungere anche il formaggio grattugiato. Ho fatto intiepidire i peperoni perché se avesse aggiunto l'uovo sbattuto si sarebbe cotto e stracciato e la frittata non sarebbe venuta fuori bene. Invece in questo modo andiamo a sbattere prima le uova. Cerchiamo di amalgamare bene il formaggio all'interno. Ora uniamo le vietoline ai peperoni. Andiamo ad unire anche tutto l'uovo e riportiamo tutto sul gas. Diamo una bella mescolata e facciamo insaporire bene. E ora manca solo di cuocere la nostra frittata. Ho aggiunto in questa padella due cucchiai abbondanti di olio d'oliva. È arrivato a temperatura e ora è arrivato il tempo di aggiungere la nostra frittata. Abbassiamo il gas, affiattiamo leggermente. E ora copriamo con il coperchio e dobbiamo lasciar cuocere per circa 5-6 minuti. L'abbiamo fatta cuocere 5-6 minuti da una parte. L'abbiamo girata per ovvi motivi. L'abbiamo fatta fuori dalle telecamere. Lasciamola cuocere altri 2-3 minuti e siamo pronti ad andare in tavola. Abbiamo fatto cuocere 2 minuti circa con il coperchio. Poi ho tolto il coperchio. Ho alzato leggermente il gas, non tantissimo, non a fuoco alto mi raccomando. Altrimenti si bruciano subito le vostre uova. Ho cercato di girarla per 30 secondi o un minuto per far asciugare bene l'acqua e per amalgamare bene tutti gli ingredienti. L'ho riappiattita, ho fatto cuocere fino ai 6 minuti e l'ho girata. Ora è praticamente quasi pronta. 2-3 minuti giusto che si cuoce anche sotto e siamo pronti. Eccoci qui, noi siamo pronti per gustarci la nostra frittata con le verdure e i peperoni. L'abbiamo lasciata cuocere 6 minuti da un lato, 2-3 minuti dall'altro, non di più. L'abbiamo messa in un piatto, se volete potete farla raffreddare totalmente, tagliarla anche a cubetti per una presentazione, per un brunch o un aperitivo con i vostri amici. Anche fredda, vi assicuro, è buonissima. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, mi raccomando, pollice in su. E vi siete iscritti al canale? Ci sono un sacco di ricette che vi aspettano. Sul sito cucinaconagnese.it invece troverete il procedimento scritto e la lista degli ingredienti, se la volete fare anche voi. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnesechiocciola.cucinaconagnese.it